L'ospedale di Pesaro così come quello di Fano è in prima linea assieme a tutta l'azienda Marche Nord per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Personale e strutture stanno gestendo con professionalità e senso del dovere una situazione senza risparmio di forze, lottando anche contro la cura dimagrante che il personale sanitario ha subito per le quarantene di ben 116 colleghi e che fronteggiano quindi un'emergenza che non era ipotizzabile. È tutto in divenire man mano che passano le ore e la situazione evolve. Oggi è stato il giorno in cui la politica e le istituzioni regionali hanno fatto sentire la vicinanza alle maestranze e ai pazienti. Il governatore delle Marche Luca Ceriscioglia e il sindaco Matteo Ricci assieme ai vertici di Marche Nord hanno visitato i punti nevralgici della struttura come la terapia intensiva, divenuta ormai un riferimento e fatto anche il punto della situazione. Sono importanti le ragioni, l'importante è che questa grande azione di prevenzione sia partita, siamo qui a fare una visita all'ospedale, prima di tutto per ringraziare tutti quelli che ci lavorano perché è chiaro che questa situazione straordinaria ha costretto le persone a turni massacranti e a dover sostituire chi è stato in quarantena perché è venuto a contatto con dei malati non aspettando sicuramente il virus e notizie buone ce le abbiamo perché molti di quelli in quarantena hanno fatto il test dopo gli otto giorni e sono negativi, la stragrande maggioranza. In secondo luogo con i dirigenti per fare il quadro perché è una situazione di costante evoluzione e noi dobbiamo sempre preparare quello che verrà più avanti. Molto bella notizia di imprese che vogliono donare macchinari, ci servono sicuramente perché i numeri che dovremo affrontare ancora oggi non lo sappiamo e ci sono dei limiti strutturali rispetto alle macchine che si hanno eccetera, un privato può anche comprare direttamente, può saltare ogni burocrazia e sarebbe un bellissimo aiuto in questo momento, c'è l'idea di una comunità che rispetta un problema si sta attrezzando e risponde. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci pur nella consapevolezza della difficoltà del momento vuole tenere e trasmettere ai suoi concittadini un atteggiamento di reattività e positività affrontando la situazione da tre angolature differenti. Il resto noi come amministratori abbiamo tre fronti contemporanei da tenere in piedi, il primo quello sanitario, il secondo è quello di tranquillizzazione della gente perché è evidente che se si facciamo prendere dal panico diventa tutto più complicato, più complicata l'esmergenza sanitaria e più complicata la situazione economica e quindi la situazione dal punto di vista sanitario è sotto controllo, i medici stanno facendo un ottimo lavoro, dobbiamo avere fiducia in loro e ovviamente dobbiamo aiutare tutti con i nostri comportamenti. Dall'altra dobbiamo sostenere l'aspetto economico perché sono sempre di più i casi nei quali operatori, commercio, turismo mi chiamano disperati, prenotazioni che vengono cancellate, prenotazioni ai tavoli dei ristoranti che vengono cancellati, quindi avremo settimane difficili e dovremo tenere un grande equilibrio tra i tre fonti, quello sanitario ovviamente che è il primo, quello di tenuta psicologica della comunità e di collaborazione della comunità e quello anche economico che sta diventando giorno dopo giorno drammatico.